Caccia al dinosauro! Ciao Norman! Cerchi un tesoro? Sì, ma finora ho trovato solo pezzi di legno. Guarda, io ho trovato un fossile. È un ammonite ed è vecchia di milioni di anni. Più antica ancora dei dinosauri. Forte! Peccato però che non sia un dinosauro. In questa zona ce n'erano, lo sai? E si possono vedere ancora le loro orme impresse nella pietra. Guarda, come questa. Wow! Ora andrò in cerca di impronte di dinosauro. Dove vai, Norman? Non è proprio il caso. La marea sta salendo e ti ritroveresti nei guai. Non importa, tieni. Ti regalo la mia ammonite, d'accordo? Davvero? Grazie, Trevor! Ben fatto, ragazzi! E anche... Ragazza, ora l'incendio è domato. Ma guardate lassù! Non si preoccupi, signore. Quello è soltanto un manichino. Lo prendo io, signore. Anche i manichini vanno salvati, Cridlington. E in queste situazioni è molto importante saperli sollevare. Sam adesso ci mostrerà come procedere. Nota come un buon pompiere è sempre ben saldo sui suoi piedi. Capitano Steel, va tutto bene, signore? Quasi. James! Sara! Ho qui qualcosa che scommetto voi non avete mai visto. Oh, e che cos'è? Guardate, è un piccolo di dinosauro. Ma quello non è un dinosauro! Quello è un ammonite. Ce ne sono tantissime qui intorno. Non sapevo che voi foste così intelligenti. Ma scommetto che non avete mai visto un vero dinosauro. Ma certo che no! Ormai non ce ne sono più ai giorni nostri. E invece sì! Io ne ho appena visto uno sulla spiaggia e so anche dove vive. Non è vero! Glielo farò vedere io. Dovrebbe tenerlo a riposo per qualche giorno. Il problema è il legamento. Oh, sciocchezze! Io ho un lavoro da portare avanti. E comunque mi sento in forma come quando... Sì, ecco, forse un po' di riposo mi farà bene. Ecco, sì, farò così. È molto meglio così, signore. Mi creda. Bene, ecco fatto. E adesso ritorniamo alla spiaggia. Finito. Finalmente delle impronte di dinosauro. Scommetto che adesso i gemelli le scambieranno per vere. James! Sara! Volete venire a caccia di dinosauri? Oggi ho intenzione di catturare uno di quei colossi. Ma non dire sciocchezze. D'accordo, fate pure come credete. Ma forse avete soltanto paura. E perché mai dovremmo avere paura di qualcosa che non esiste neanche? Oh, cipicchia! Ma che roba è quella? Ora fate attenzione, voi due. E mi raccomando, tenete gli occhi bene aperti. Oh! Ma quelle sono impronte di dinosauro. Che cosa vi avevo detto? Ma non possono essere vere impronte di dinosauro. E invece sì. Io ve l'ho detto che qui ne avevo visto uno. Andiamo. Seguitemi. Stavolta riuscirò a catturarlo. E poi io non ho paura. Norman! Norman! Dove sarà andato? Oh! Questo sarà il dinosauro! Ma che dici? Quale dinosauro? Questo è solo Norman. Norman! Norman! Dove sei? Norman! James! La marea sta salendo. Dobbiamo ritornare subito indietro. James! Oh no! Cosa? Allora eri davvero tu? No! No, era il dinosauro. È scappato da quella parte. L'ho visto io. Va pure a vedere se non mi credi, James. Puoi contarci. Allora andiamo. James! Norman! Quelle scale sono una tortura in queste condizioni. Spero che non sia troppo tardi per il pranzo. Ecco, in effetti lei è in anticipo. Oggi a dire il vero sono io in ritardo. Ho capito. Allora chiamami quando sarà pronta. James! Norman! Venite fuori! Andiamo via o resteremo intrappolati qui dalla marea. Abbiamo un bisogno d'aiuto. Forse mi vedrà qualcuno dagli scogli. Io lo sapevo che non c'era nessun dinosauro. Ti sbagli? È che sono molto bravi a nascondersi tutto qui. James, guarda! C'è! L'acqua! Siamo in traola! Sì, io ho visti un paio d'ore fa. Io credo che stessero andando alla spiaggia. Beh, non sono ancora tornati. E la marea sta salendo. Devo chiamare subito Sam il pompiere. Oh, James, Sarah e Norman scomparsi. Oh, santo cielo. James, Sarah e Norman sono scomparsi. Sono stati visti l'ultima volta sulla spiaggia. Avverta il soccorso alpino, signore. Tom li cercherà dall'alto e Penny ed io faremo lo stesso dal mare. Qui, soccorso alpino. Vedo Sarah su uno scoglio a 500 metri dalle scogliere di North Bay. Grazie, Tom. Ora la vediamo anche noi. Salta su, Sarah. Ecco fatto. Dove sono Norman e James? Sono entrati nella grotta e poi non li ho più visti uscire. L'ingresso della grotta è allagato, Sam. Aiuto! 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 Sì, guarda! Lì c'è qualcosa che si muove nell'acqua. Deve essere un mostro marino! Ma Norman! Non ci sono mai stati! Penny! Salve ragazzi! Norman! Ritorna qui! È solo Penny! Io lo sapevo! Tranquilli, ormai siete al sicuro. Vi porterò io fuori da qui. Che ne sarà di me? Tornerò subito, Norman! Tieniti a me, James. Ehi, è fredda l'acqua! Non pensarci, pochi secondi e sarai in salvo. La marea sta iniziando ad abbassarsi. A quanto sembra è stato il tuo scherzo a mettere tutti in pericolo, Norman Price. Eppure sai bene che ignorare le maree può essere rischioso. Mi dispiace, Sam. E voi due avreste dovuto saperlo anche meglio di lui. Ma mamma! Norman aveva detto di aver visto un dinosauro! Beh, allora doveva essere un esemplare molto vecchio. perché ho trovato il suo bastone. È un po' di tempo che pensavo ad un addestramento di questo tipo. Ora, noi appiccheremo un incendio alla base della torre di addestramento, e cioè qui, per andare a salvare una persona all'ultimo piano, cioè qui. A questo punto, io nomino Sam, responsabile operativo degli autorespiratori, e Penny, ufficiale della sicurezza dell'intera operazione. Sì, signore! Ed io che cosa faccio, signore? Oh no, voglio sperare che non sarò proprio la persona da salvare. Magari. No, tu sarai il numero due di Sam, e tutti insieme dovrete salvare Dolly. Ma non è il vecchio manichino che abbiamo sempre usato nell'esercitazione? Sì, ma con una parrucca. Non badiamo a spese noi. Nessuno a Pontipandi mi batte a nascondino. Ma scherzi, quando io mi nascondo divento invisibile. Ma che dici? Non è vero. Sentite, io credo che voi siate entrambi molto bravi a nascondervi, e adesso potremmo smetterla di litigare. Ho un'idea! Perché non facciamo una bella gara e vediamo una volta per tutte chi è il più bravo tra di voi? Che cosa? D'accordo! Sara e James dovranno provare a trovarci! Io ci sto! E adesso, ragazzi, che vinca il migliore! Cioè io! Cerca almeno di non nasconderti in un posto pericoloso, d'accordo? Uno, due, tre! Così dovrebbe bastare, Sam. Yuhuu! Senti, Sam, vuoi che faccia in modo che Dolly finga anche di salutarci? Così forse potrebbe essere più emozionante. Fai pure come credi, Elvis. Ecco un buon nascondiglio. Qui non mi troverà nessuno. Vedi, anche a me piace giocare a nascondino, ma Norman e Mandy adesso stanno davvero esagerando. Che cosa vuoi dire? Ti ricordi quando Norman si è nascosto vicino al centro di soccorso alpino? L'abbiamo cercato per tutto il giorno, finché non è dovuto intervenire Tom Thomas. Coraggio, vieni con me, Sara. Andiamo a cercarli lungo il molo. Questa volta troverò un nascondiglio migliore del solito. Allora, li hai trovati? Guardatela, non sembra una vera signorina. Non ti sarei preso una cotta per Dolly? Bene, a questo punto ci siamo meritati un bel tè. Ecco, quello sì che è il nascondiglio perfetto per me. Ammettilo, James, non riusciremo mai a trovarli. Sì, ormai abbiamo cercato ovunque. Ehi, papà, è uscito il mare! Ah, sì! Ciao, papà, ciao! Ma che strano. Speriamo che il leone non si sia di nuovo addormentato sotto le mie nasse. Ma che cosa abbiamo qui? Una clandestina! Credo di avere il mal di mare. James, ho appena trovato Mandy, è là! Oh, per meglio dire, l'ha trovata papà. Ah, guarda, hai ragione! Aspetta, perché adesso si sporge così tanto? Sembra che stia male... Oh, poverina! Non bisogna mai nascondersi su una barca e poi senza neppure indossare il giubbotto di salvataggio. E se fossi caduta in mare? Mi dispiace davvero tanto, signor Jones. Vedi, io stavo giocando al nascondiglio. Ti consiglio di giocare in un posto meno pericoloso la prossima volta. Lo farò, glielo prometto. Trova, patata! Grazie, Sara. Bene, allora sembra che la gara di nascondino l'abbia vinta Norman. Andiamo a cercarlo e diciamoglielo. Sperando che si sia nascosto in un posto meno pericoloso della mia barca. Yuhuu! Avete visto Norman? Non è venuto a casa per pranzo e oggi c'è il suo piatto preferito, bastoncini di pesce. Lo stiamo cercando anche noi, signora Price. Stiamo giocando al nascondino. Oh, ma non gli sarà successo qualcosa, spero. No, si sarà nascosto e sono sicura che sta bene. Oh, che amate l'istinto materno, ma io credo che sia in pericolo. Devo chiedere aiuto e subito. Tu non crederai che sia sul serio in pericolo, vero? Io spero che vada tutto bene. Dolly conta su di noi, Sam. Lei è in mani sicure, Elvis. Oggi Norman non è tornato a pranzo. Sembra che si sia nascosto chissà dove a Pontipandi. A questo punto io chiamerei Tom, signore. Lui avrà sicuramente una visuale migliore dall'alto. Oh, è un'ottima idea, Sam. Questo significa che la nostra esercitazione potrà proseguire come previsto. Allora, c'è qualche posto dove non avete ancora guardato? Solo la caserma dei pompieri, ma io non credo che si sia nascosto lì dentro. Sarà meglio dare comunque un'occhiata. Non parli molto, vero? Ehi, questo sembra proprio l'elicottero di Tom. Chissà che cosa è successo. Deve esserci un incendio qui intorno. Sento puzza di bruciato. Bene, signore. Ho appiccato l'incendio. L'esercitazione può iniziare. Oh, magnifico. Allora diamo l'allarme. Coraggio. Ora diamoci da fare, Elvis. Emergenza alla torre di addestramento. Un incendio ha intrappolato una persona all'ultimo piano. Stavolta vi serviranno Jupiter e Venus, ragazzi. E buon lavoro. Un incendio. Ora non preoccuparti, Dolly. Ti porteremo in salvo tra un secondo. Diamo un'occhiata alla spiaggia. Aspetti. Oh, no. Guardi, la torre di addestramento. E no, ma... Aiuto. Guarda in cima la torre, Sam. Ma quello è Norman Price. Che cosa ci fa lassù? Aiuto! Elvis, tu tieni sotto controllo le fiamme. Penny, abbassa gli stabilizzatori e alza la scala. Non preoccuparti, Norman. Sam sta venendo a prenderti. Oh, che cosa vi avevo detto? Lo sapevo che Norman era in pericolo. Presto, Sam. Mi porti via da qui. Oh, i miei biscotti. Urra! Arriva! Bravo! Allora, sentiamo un po'. Vincere una scommessa è diventato forse più importante della tua stessa sicurezza? Ovviamente no, capitano Steel. Avremmo dovuto pensarci prima di nasconderci. Oh, ma adesso sono io il campione assoluto di nascondino di Pontipandi. Ascoltami bene, io ti consiglio di andarti a nascondere a casa per un po'. Sì, e festeggerai mangiando i bastoncini che avresti dovuto mangiare due ore fa. D'accordo, mamma. Ma che cos'hai, Elvis? Abbiamo fatto un ottimo lavoro. Ma la mia povera Dolly, purtroppo non ce l'ha fatta. Sei sicuro? A dire la verità, Norman non è stato l'unico che ho portato fuori da quell'inferno. Guarda un po' dietro di te. Dolly, sei salva! Sei veramente un grande piccolo eroe, sei... È solo il nostro lavoro, Elvis. È quello che siamo addestrati a fare. Io non ho freddo. Io non ho freddo. Io non ho freddo. Ho chiamato Mike per farlo venire ad aggiustare la caldaia, ma per ora dovrei accontentarti della stufetta elettrica. Grazie, sto congelando. Ad ogni modo, Bronwyn, ricorda di non mettere niente su questa stufetta perché potresti anche provocare un incendio. Dove sono Sara e James? Sono andati fuori a giocare. Spero che si siano coperti bene. Hai sentito anche tu, Sara? Quello era un bambino. Non può essere, James, ma quale bambino? E invece sì. Ecco, è di nuovo lui. Ciao, Norman. Cos'è quello? Wall-E ha trovato un agnellino. James pensava che fosse un bambino. Non è vero. Beh, anche tu. Comunque tu non dovresti fare questi scherzi, Norman. Non è divertente. Ma io non ho fatto niente. Però è divertente. Norman, mi presteresti l'agnellino? D'accordo. Ma che vuoi farci? Farò finta che sia un bambino e voglio proprio vedere se qualcun altro ci crede. Oh, tua sorella è uno spasso. Andiamo, Norman. Sono sicuro che ci sarà qualcosa di meglio da fare che giocare ai bambini. Allora? Oh, certo che oggi è una giornata veramente molto fredda, vero, Sam? Perché non fa come me, signore? Muoversi è sempre il modo migliore per riscaldarsi. Non tutti hanno così tanta energia da bruciare, Penny. Sciocchezze, Sam. Forse sarò di qualche anno più vecchio di te, ma ho ancora parecchia energia anch'io. State a vedere? Ma io... Io non parlavo di lei. Quello che... Che volevo dire... Non dire altro, Sam. E comunque io sono ancora in perfettissima forma. Molto più di voi. Ecco. C'è nessuno? Sembra proprio che qui non ci sia nessuno. E quindi questo renderà ancora più bella la sorpresa. Lo so che è vecchia, ma finora non ci ha mai dato problemi. Non preoccuparti, Bronwyn. Te la rimetterò a posto in cinque minuti. O non mi chiamo più Mike Bacchetta Magica Flood. Oh, no. Ciao, Sara. Che cosa fai? Era tanto tempo che non ti vedevo giocare con le bambole. Non sto giocando con le bambole. Faccio la babysitter. Sara, ma dove hai trovato quel bambino? Non sei troppo piccola per badare a un... Certo è strano il tuo bambino. Le so. Ho deciso di chiamarlo Bambignello. Oh, Sara. Sempre a scherzare. Oh, sì. Avanti. Permesso, Capitano Steel. Signore, è tutta la mattina che corri. Oh, sì, sì. Esatto, Penny. Lo so che non ci crederai, ma sono ancora molto più in forma di tanti giovanotti. Ma certo, signore. Ne sono convinta. Comunque avevo solo bisogno di un modulo 23. Eccolo qua, Penny. Grazie, signore. Vada, Penny. Sono esausto. E adesso non scomparire, d'accordo? Non preoccuparti, Dillis. Tornerò non appena avrò bisogno di comprare qualcosa da mangiare. Ma... Oh, un bambino. Io adoro i bambini. Sono stupendi. Specie quando sono piccoli. Oh! Ma che cosa... Oh, ecco. Certo. Certo che ha dei miei riccioli. Tesoro, ti suggerisco di correre subito a casa prima che inizia a piovere. Oh, certo che... Povera creatura, un brutto musetto. Vieni a ripararti. Continuo a ripeterti che tutto il giorno che corre sono preoccupata che possa esagerare con tutta questa attività. Ormai non è più così giovane. Non posso crederci, Penny. Eh, la verità, Elvis. Vai pure a vedere. Che cosa c'è, Cridlinton? Ecco, veramente io... Io ero solo passato a... A salutare. Arrivederci. Non ce la faccio più. Mamma! Si zela là fuori. Oh, poverino. Sei tutto bagnato. Ora metto ad asciugare il maglioncino e poi proverò ad asciugarti. Ecco fatto. Vedrai che tra un minuto sarai al caldo anche tu. L'ho pulita e adesso è tornata come... è nuova. Però mi raccomando, dovresti farla controllare almeno una volta all'anno. Ma sei sicuro che funzioni bene? A me qui sembra proprio di sentire odore di bruciato. Oh, oh. Sì, hai ragione, Bronwyn. Non me ne ero accorto prima, purtroppo. Ora non facciamoci prendere dal panico. Restiamo calmi. Come calmi? Ma come facciamo a restare calmi? Qui c'è un incendio. Allora, adesso prova a ripetere con me. Io devo restare calmo. Io devo restare calmo. Io devo restare calmo. Ma che state facendo qui dentro? Venite tutti fuori. E qualcuno chiama i semi il pompiere. è tutto il giorno che corre. È vero, l'ho visto anch'io. Oh, beh, ora non sta correndo. Poverino, sarà stanchissimo. Ma scusate, come avete fatto a credere che avesse corso tutto il giorno? Un incendio alla pescheria? E' un incendio alla pescheria. Non è un incendio alla pescheria. E' un incendio alla pescheria. Sembra che ci sia un bambino al piano di sopra Dove state andando voi due? A salvare un bambino Ma a me non sembra un bambino Infatti quello è l'agnellino di Wally Che ho preso per fare uno scherzo È tutta colpa mia Mi dispiace tanto Tranquilla Sara, ora ci pensiamo noi Penny, prendi gli autorespiratori Elvis, tu prepara l'idrante Ora vado a salvare il bambino Oh, Sam, il pompiere, il mio agnellino Io lo sapevo che non era un bambino Anch'io, Mike Anch'io Beh, Sara, ma è comunque piccolo E vuole stare con Wally Ma che succede? Speriamo solo che non ci sia stata qualche chiamata O mi avrebbero trovato a dormire in servizio? Ragazzi, Sam, Elvis? Ma dove siete finiti? Che brutto ventaccio Anche quest'anno puntuale È arrivato il Natale Ma chi avrà bussato la porta Ehi, guardate, Penny Oh, perbacco! Quest'anno il nostro supermercato avrà le più belle decorazioni di Natale di tutta Pantipandi Io direi che ne abbiamo già abbastanza Norman E dai, mamma Perché non mettiamo anche queste? E anche queste qui, che sono intermittenti Io devo ancora riuscire a sbrogliare queste E poi non ci sono prese per collegarle tutte Andiamo, mamma Vedrai, sarà un vero spettacolo quando saranno tutte accese Allora, Sam, che cosa ne dici? Ti piace? Io non credo che collegare tutte quelle spine su una sola presa sia una buona idea Ma anch'io voglio le decorazioni di Natale nella mia cucina, chiaro? Per me va bene, Elvis Ma questo è un vero pezzo d'antiquariato Che rischia di surriscaldarsi se lo colleghiamo a troppe spine Oh, ma io volevo solo creare un po' di atmosfera Niente in contrario Ma allora prendi una prolunga e sfrutta anche quella presa lì Oh, wow! Non avevo mai visto niente del genere Adesso spero sarai soddisfatto, Norman Price Allora, altri cori di Natale Sì, ma queste sono soltanto le luci Adesso dobbiamo mettere le altre decorazioni Per iniziare, io voglio gonfiare questo bel babbo Natale Norman Price, adesso stai davvero esagerando Non abbiamo neanche un giardino dove metterlo, lo sai? Non serve il giardino Possiamo appenderlo ad una corda e far sembrare che stia per scendere dal camino No, Norman, no! È sul serio stavolta Oh, d'accordo, mamma Se non vuoi... se non vuoi che io sia felice a Natale Come previsto, i forti venti che stavamo aspettando sono arrivati e dureranno fino a lunedì Perfetto, mamma E adesso legalo al camino Oh, oh, oh Norman! Io non ce lo faccio, c'è troppo vento La scala si muove Ora te la tengo io, mamma, coraggio Ehi, torna qui, papbo Natale Norman, dove stai andando? Norman! Norman! Non lasciarmi qui! Aspetta pure in macchina, se vuoi, non ci metterò molto Mamma, mamma, mamma Che c'è, Mandy? Ho visto babbo Natale, sul serio, è andato di là Io qui non lo vedo E poi manca ancora una settimana a Natale E poi la prossima Eppure io sono sicura di averlo visto Dico sul serio, non sto scherzando Beh, io non vedo proprio niente, Sara Ti sarai immaginata tutto come al solito Non è vero È inutile, Norman L'abbiamo perso Forso chi? Babbo Natale Ecco, te l'avevo detto che l'avevo visto Non fare così, Norman E poi abbiamo messo più luci e decorazioni Di qualunque altro negozio in città Ma, mamma, non abbiamo un altro Babbo Natale in magazzino? No, Norman, purtroppo quello era l'ultimo Non puoi ordinarne un altro? Ormai manca solo una settimana a Natale Non arriverebbe mai in tempo E tu di che si tratta di un'emergenza Aiuto, questa è un'emergenza Io dicevo soltanto così per dire Mamma Stavvertite, Sam, il pompiere, subito! Incendio al supermercato di Dillys? Incendio al supermercato di Dillys? Sam, ha chiamato la signora Price E c'è anche un uomo in mare nella baia? Aspetta, Sam! Che succede? C'è un altro allarme Sembra che ci sia un uomo in mare nella baia Ci mandi Penny con la lancia! Sì, buona idea, Sam! Penny? Vado subito, signore! È un incendio di natura elettrica Quindi dobbiamo prima di tutto togliere la tensione Da quella parte Vado subito Tranquilla, l'incendio è stato spento Ed è tutto sotto controllo C'erano troppe spine su una sola presa Ecco dove era il problema Elvis ha ragione, Dillys Devi sapere che è molto pericoloso Sovraccaricare le prese Bisognerebbe sempre evitare Io ho provato a dirtelo che c'erano troppe luci Ma tu hai continuato ad insistere E insistere ancora Scusa, mamma Guardate chi stava nuotando nella baia L'uomo in mare era proprio Babbo Natale Evviva! Avrò anche perso tutte le decorazioni Ma almeno ho ritrovato il mio stupendo Babbo Natale Adesso me lo riprendo perché voglio metterlo sul tetto Sul tetto? Ma scusa, quei pupazzi non andrebbero messi in giardino? Che cosa ti avevo detto, Norman Price? Ma dai, mamma Norman Price? Io credo sarebbe il caso che Babbo Natale ci aiutasse A ringraziare questi vigili per quello che hanno fatto per noi Sorridi, Norman Sei stato gentile a regalare il tuo gonfiabile per la caserma E per ringraziarti ho preparato queste tortine natalizie per te Sì, Norman Sei stato molto gentile E così tutti in città potranno vedere Babbo Natale Sì, ecco, non vorrei essere egoista Ehi, Norman Lasciani qualcuna per gli altri In effetti questo è il posto ideale per il tuo Babbo Natale E poi qui non potrà sicuramente causare altri incidenti Una tortina natalizie, signore Grazie molte, Elvis Nuovo eroe della porta accanto Grazie al cielo Siete qui E lassù, Sam Non preoccuparti Non preoccuparti, sta tranquilla È tutto sotto controllo Penny, giù gli stabilizzatori subito Stabilizzatori giù Presto, Sam Adesso sto alzando la piattaforma Avvicinati ancora un po', Penny Dai, su, coraggio, Leone Vieni qui È ora di tornare a casa adesso Ah, ma dove stai andando? Guarda un po' che cosa ho qui Funziona sempre Ok, Penny Riportaci giù Oh, grazie, Sam Attento, Sam Sto abbassando Non posso crederci L'hai salvato Oh, Sam Io non so come ringraziarti Il povero Leone doveva essere terrorizzato Se fosse davvero terrorizzato Non continuerebbe a tornare qui sopra Poverino Lui dimentica quanto sia alto il tetto Fermi, aspettate Mi sono persa qualcosa Avrei voluto riprenderti con la mia videocamera Oh, non è stato nulla di così eccitante Ho soltanto portato Leone giù dal tetto Di nuovo Oh Ehi, ho un'idea Adesso non potrebbe riportarlo lassù per me Non credo proprio, Mandy Ma io volevo riprendervi No Povero Leone Ciao, Mandy Norman Che c'è? Io volevo soltanto essere ripreso Ehi, ho un'idea Perché non giriamo un vero film insieme? E poi tuo fratello Sam l'ha salvato, Charlie Sam è un eroe Non è vero, Leone Certo che i pompieri sono tanto coraggiosi E i pescatori, allora? Siamo coraggiosi anche noi Oh, ma sì, certo Evviva, papà Tu sei il nostro eroe Sì, ecco A questo punto io dovrei tornare al mio peschereccio Ciao a tutti Ehi, ma... Sarah James Ascoltate Ehi, ragazzi Vi andrebbe di partecipare ad un film? Chiamate il peschatore Charlie State tranquilli Sto arrivando È tutto sotto controllo Sei il migliore Charlie Brava E perché non posso essere io l'eroina? Ma perché sarò io la stella del film? E poi è stata una mia idea Charlie? Va tutto bene? No, cioè, voglio dire... Certo Allora... Allora vado Ho avuto un'idea fantastica per il mio costume Voi aspettate qui Torno subito Sei tu, Norman? Sono sotto la doccia Scusa, mamma E che cosa sarebbe quello? È il mio costume Io sono un super eroe Chi ha preso la tenda del bagno? Norman! Sì Questo è il posto giusto Allora Sarah è in difficoltà Ed io corro per salvarla Bene, siete pronti? Motore Azione! Norman! Dovrei dirlo io, azione Dopotutto la videocamera è mia Andiamo, Mandy Non puoi fare tutto tu Ok, d'accordo Azione! Oh, adesso io ti lascerò qui In modo che i gabbiani ti finiscano James! Oh, aiuto Aiuto, aiuto, aiuto Qualcuno mi salvi Arrivo Non preoccuparti Norman Man è qui Ora ti salverò io Aspetta Norman Man Aiuto, aiuto, aiuto Qualcuno mi salvi E allora Norman Man Che aspetti? Aiuto, aiuto Qualcuno mi salvi Ma... Aiuto Aiuto Ferma, resta lì dove sei Sara Arriva Charlie Il pescatore Aiuto 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 Qualcuno mi salvi Ecco Io sono pronto adesso Io no Devo riaccendere la videocamera Allora Adesso qualcuno viene a salvarmi Oppure no Sto arrivando Sara Tieni duro Papà Non riesco a muovermi Aiuto Non si preoccupi C'è Norman Man qui Norman Smettila di sognare Tu non sei un vero supereroe Io corro a chiamare Sam il pompiere Aiuto Un incidente sulla spiaggia C'è stato un incidente sulla spiaggia Ci vorrà la guardia costiera Prendi la lancia con Penny Non preoccuparti papà Sam il pompiere starà per arrivare Aiuto Eccolo Eccolo C'è arrivato Viva Urrà Urrà per Sam Che cosa è successo Charlie? Ciao Sam Ecco niente di serio Ho solo urtato uno scoglio E sono caduto in acqua Sono rimasto impigliato in una nassa Ma posso farcela? Oh no Adesso mi tuffo a dare un'occhiata Certo dovevi andare veloce Quando hai urtato contro lo scoglio Non lo so Io volevo solo fare l'eroe Ecco questa è quella che si chiama un'azione da veri eroi Urrà Evviva Fantastico Bell'amore Guarda leone Lo vedi Il tuo eroe è in tv Io mi sento così in imbarazzo Mai quanto me Quando oggi ho scoperto di non avere più la tenda del bagno Aspetti Adesso viene la parte migliore Guardate Saluti da Norman Man Sono un eroe anch'io Norman E con questo Sam ha fatto tre salvataggi in un solo giorno Ma quella è la mia tenda del bagno Norman Norman Finalmente Norman Ma che cosa stai combinando? Niente mamma Niente? Con la mia scopa E questa è la mia coperta buona Mamma Mi serve Io oggi devo andare in campeggio E come potrò fare la tenda senza la scopa e una coperta? Campeggio? Oh Norman Il campeggio è sporco Pericoloso e anche... Il campeggio è divertente Ah Ciao Trevor Non ti avevo vista Io adoro il campeggio Vivere all'aperto Respirare aria fresca E natura stupenda Ero anche un boy scout Lo sai? Oh davvero? Dovevi essere carino in divisa Bene ragazzi E anche ragazza È tornata la primavera E sappiamo tutti che cosa vuol dire giusto? Forse fiori? No Cridlington Vuol dire campeggi Escursioni e picnic Cioè tutte cause potenziali di incendi Incendi di bosco o di sterpaglie Che hanno bisogno di tecniche di spegnimento diverse E di diverse attrezzature Sembra un ventaglio No Elvis Quella pala serve a spegnere i fuochi di sterpaglio Dimmi Norman Tu hai mai dormito in una tenda O preparato da mangiare su un fuoco da campeggio? Sì Certamente Tantissime volte No non è vero Una volta volevi dormire in giardino Ma sei tornato dentro quando ha fatto buio Ma avevo solo tre anni Ascolta Vorrei sapere se qualche volta ti farebbe piacere venire in campeggio con me Sì Mi piacerebbe tanto Sarebbe stupendo D'accordo Allora che ne diresti di farlo proprio questo fine settimana? Oh che bello Sarebbe davvero fantastico Sedere insieme sotto le stelle così aromatico Non vedo l'ora Ma io non... Oh ma certo Anch'io adoro la vita all'aperto Non è vero mamma Ma ti rendi conto di quello a cui stai andando incontro Trevor? Ti ricordo che ho molta esperienza in fatto di campeggio E so benissimo come accendere un fuoco in tutta sicurezza Io ero un boy scout Oh scusami Trevor Non stavo mettendo in dubbio la tua competenza È solo che... Norman Price Oh adesso ho capito tutto Norman Vieni ad aiutarmi con le valigie? Quanto vorrei che restasse a casa Divertitevi ragazzi Sarà il caso che avverta il soccorso alpino Giusto per sicurezza Sai mamma, il campeggio può essere pericoloso Prima di tutto si deve fare molta attenzione ai gatti selvatici Gatti selvatici? Sì, quindi non sei costretta a restare se non vuoi mamma Ma Dillis, non ci sono mai stati gatti selvatici sulla montagna di Pontipandi Ma potrebbero esserci degli animali scappati dallo zoo e tornati alla natura Non dire sciocchezze Una volta alla tv hanno raccontato la storia di un feroce leone rimasto libero per anni Mi sembra quasi di sentirlo rugire Forse dovremmo restare accanto al pulmino D'accordo, tu resta pure qui se vuoi Oppure puoi chiedere a Trevor di riportarti a casa Nel frattempo io vado a cercare un buon posto dove montare la tenda E non preoccuparti per me Io so come trattare i leoni Norman, aspetta! Norman, aspetta! Norman, aspetta! Norman, aspetta! Il leone! No, è solo Norman! Grazie tante, Trevor! Andiamo mamma, c'è da raccogliere un po' di legna Tranquilla, Delis Ti assicuro che non c'è nulla di cui preoccuparsi Il pericolo maggiore nei boschi viene dai campeggiatori e dagli incendi che possono scatenare Incendi, hai detto? Sì Per questo bisogna preparare il fuoco con molta attenzione Ma... Io ho letto di due campeggiatori che non si sono accorti dell'incendio finché non è andata a fuoco anche la loro tenda No, Sam, non ci sono problemi al momento Comunque è bene che tu sappia che Trevor farà campeggio lassù stanotte con Norman Price Ok, messaggio ricevuto, terrò gli occhi ben aperti Oh, ecco fatto! A questo punto possiamo anche iniziare a cucinare Quello che ci serve è una pentola e qualcosa da metterci dentro No! Al fuoco! Trevor, l'intera foresta sta andando a fuoco! Torniamo al pulmino subito! No, Delis! Da questa parte! Da questa parte! Vieni qua! Aiuto! Chiamate Sammy il pompiere! Tom, un incendio sulla montagna di Ponti Pandi? Incendio sulla montagna di Ponti Pandi! Sarà meglio avvertire Tom! Pronto Tom, stiamo arrivando Abbiamo saputo dell'incendio scoppiato sulla montagna di Ponti Pandi Sei sicuro Sam? Comunque d'accordo, vi aspetto qui Che strano, eppure non vedo fumo Dov'è l'incendio che hai visto? Eccolo, è laggiù! Ci sono ancora le fiamme arancioni che divampano tra gli alberi Oh, 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 oh cielo Mamma, ma quello è solo il tramonto! Norman Price, se tu non avessi cercato in ogni modo di spaventare tua madre Tutto questo non sarebbe mai successo Continua così e io ti porterò subito a casa, è chiaro? Mi dispiace Trevor, scusa mamma Ti prometto che non cercherò più di spaventarti Molto bene, ora sarà meglio che chiami la caserma e gli dica del falso allarme Oh, che cosa? Un falso allarme? Ehi, sentite ragazzi! Ehi, ragazza! Falso allarme! Non c'è nessun incendio! Ripeto, non c'è nessun incendio! Era un falso allarme Elvis Rientriamo Ecco l'incendio Devo immediatamente avvertire Sam Pronto? Pronto, Sam sono io! Ho localizzato l'incendio! Fate presto! Sì, Tom, stiamo arrivando! Tu aggiorna immediatamente il capitano Steve Oh no! Mamma, Travord! C'è un incendio! Dico davvero, stavolta avvertite Sam il pompiere subito! Norman Price, devo forse ripeterti che queste tue storielle non sono divertenti? No, no, non sono storie, è vero! Venite a vedere! Oh, santo cielo! Cosa ho fatto? Non avrei mai dovuto lasciare incustodito quel fuoco! Tom Thomas chiama Sam! Sono appena decollato! Dove siete? Siamo sul posto, Tom! Penny, Elvis, portate gli idranti! L'incendio è troppo lontano perché si possa spegnerlo con gli idranti Dovremmo usare le pale e gli estintori Non preoccuparti, ho già riempito il serbatoio dell'acqua Lo spegnerò dall'alto Mi piacciono questi ventagli Oh, mi dispiace, Sam Non avrei mai dovuto lasciare il fuoco acceso senza controllo Eppure io ero un boy scout Lo so, Trevor Ma anche ai boy scout capitano gli incidenti Ciao, Sam Sarà sicuro lasciarlo dormire da solo là fuori? Sì, Dillis Sta tranquilla Se l'allarme inizia a suonare Sam sa sempre cosa fare Se nei guai ti cacerai Sempre, sempre